Dall'esterno prova il lancio veloce Unost, di dentro Vaitor e Zorogual sono i più solleciti. Vaitor prova a difendere la posizione alla corda, di galoppo di Zorogual, in seconda posizione Scilaboss, all'esterno Unions che si accoda seconda. Vaitor leader, galoppo anche di U6000, il galoppo continuo di Zorogual, quindi Vaitor in testa su Unions, in terza posizione Scilaboss, a largo naviga invece Royal Viking. I primi 400 metri se ne vanno in un 28.2, in schiena a Royal Viking, prova a risalire anche Realmede SM. Siamo sulla retta di fronte, primi 600 metri di Vaitor, veloci in 43.6, in seconda posizione Scilaboss, Unions, a largo Royal Viking, di dentro Scilaboss, quindi Realmede con all'interno Vianzac. E siamo arrivati già a metà gara, con Vaitor che conclude i primi 800 metri in 59, da 1.14 scarsi. Adesso al suo esterno Royal Viking si avvicina, Unions è sempre dietro i due, Royalmede è chiamata a maggior impegno, Scilaboss che in questo momento non ha da correre, 1.14 per il primo chilometro. Vaitor prova ad allungare, Unions non segue più, Royal Viking traccheggia a largo, prova a farsi avanti anche Taborcaf dall'estrema retroguardia. Siamo addirittura arrivo con Vaitor che ha due lunghezze di vantaggio sugli avversari. Royal Viking prova a scavalcare Unions, si lancia a centropista Scilaboss, ancora più largo c'è invece Taborcaf. E siamo ai 150 conclusivi con Vaitor insidiato da Scilaboss, Vaitor alla corda, Scilaboss a largo, il palo è vicino, è sul palo, Scilaboss castiga Vaitor. Per il terzo posto Vianzac batte Royal Viking e Taborcaf. Mancano 100 metri allo stacco della macchina, si ritrae Zola e Graal. Dall'esterno Zoraida prova a scavalcare Zoom Rock. Zoom Rock davanti, Zoraida a largo, di dentro c'è Zaffiro Giall, quindi Zirkovia Cis e Zadig del Ronco. Zoraida Fonto prova a sistemarsi seconda all'imbocco della prima curva in cui Zoom Rock ha fermato tanto e aspetta Zadig del Ronco per dagli strada. Zadig risponde presente, Gasparalo Verde passa agevolmente su Zoom Rock. 400 metri iniziali in 30 e 1, Zadig, Zoom, Zoraida, Zaffiro, Zirkovia Cis e Zola e Graal. E si va al primo passaggio sotto le tribune. I primi 600 metri di Zadig del Ronco in 46. è fila indiana, nessuno si muove con il favorito netto che è davanti. Così Gasparalo Verde è libero di giostrare i parziali a piacimento, 800 metri in 1, 0, 0 e 4. Zoom sempre in seconda posizione, quindi Zoraida, Zaffiro, Zirkovia e Zola e Graal. E si affronta così la penultima curva. È un primo chilometro in 1, 16, 2, 15, 8 di parziale. Posizione naturalmente cristallizzata, nessuno si avventa a corsia esterna con Zadig del Ronco Leader. E si arriva così a 1.200 metri, parziale in 14,5, 1, 30,5. Si continua così con queste posizioni, naturalmente nessuno fa la prima mossa e Zadig del Ronco continua così a condurre agevolmente. Ancora un parziale in 15, 1, 1, 45, 6, 1.400 metri. E ci avviamo al miglio sul finire della dirittura d'arrivo, imboccando la curva finale. Timido accenno all'esterno da parte di Zaffiro Giall, un miglio coperto in 2.005. L'anticipo di Zoraida Font, Zadig con Gasparlo Verde a guide basse. Si entra in dirittura arrivo, Zadig, Zoom, Zoraida, Zaffiro che non progredisce a largo. Di dentro, senza spazio, Zirkovia Cic, Cic, prova a centropista, Zolae Graal. Siamo ai 200 finali con Zadig del Ronco che non ha problemi, anzi allunga in maniera evidente gli avversari. Per linea interna, Zirkovia Cic che attacca negli ultimi metri Zadig del Ronco completamente in controllo. Quindi, Zoom Rock a precedere Zoraida Font e tutti gli altri. 150 metri allo stacco. Dal centro dello schieramento parte Forte Atina Arrisaia, il galoppo di Aura Rab, di dentro Aura Club e Ardea Wise. Quindi, il numero numero tre, arriva la squalifica per Aura Rab. Davanti a Atina Wise, il galoppo anche di Aura Wise L, in seconda posizione Aura Club Mail, davanti ad Ardea Wise. Quindi, il nove di Atas Fighter Sun e poi tutti gli altri chiusi da Argo Cam. Canallo numero cinque, è squalificato. Arriva la squalifica anche per Aura Wise L, quindi primi 400 metri in 28. Prosegue la marcia in avanti di Atina Arrisaia, davanti a Aura Club Mail. Il galoppo anche di... Canallo numero otto, squalificato. Nel numero due di Ardea Wise, e si va a metà gara, 800 metri in 59 scarsi, Atina Arrisaia, Aura Club, Ardea Wise. Gli altri che trafficano a largo, dal fondo prova la risalita a Ania Rich, in mezzo alla pista. Ripeto, cavallo numero otto, squalificato. In 1-14-2, Atina Arrisaia prosegue, incollata alla sua scia c'è Aura Club Mail, quindi Ania Rich che si è liberata dal gruppo e si pone in caccia ai primi due della testa. Quindi ancora il nove di Atas Fighter Sun, si entra in dirittura d'arrivo con Atina Arrisaia che sembra essere in controllo, perde qualche battuta Aura Club. Scatta Ania Rich, di dentro Atas Fighter, il galoppo di Aldo Baio quando era in recupero. E siamo ai 150 finali, Atina Arrisaia a lunga, comandata e sostenuta da Michele Adriano Laporta. E Atina Arrisaia che va a segno davanti a Aura Club Mail, Ania Rich, Atas Fighter Sun, Ardea Wise. 1-58, 1-13-7 per chi vince ovviamente. Cavalli che si vengono al lancio, il galoppo del numero 6, Blitz FKS. Si parte. All'interno Bull and Run, Benton che si sistema secondo. Cavallo numero 6, squalificato. Arriva la squalifica del Blitz FKS, allargo Babbiolo e Bosso, parte bene la seconda fila Blush B, quindi ancora Brutute Jet, via via tutti gli altri. Gruppo chiuso da Baby Toll Lux. Prima curva, posizioni invariate, Bull and Run al comando, 28 di lancio. In seconda posizione Benton. In terza continua a esserci il numero 13 di Blush B, allargo Babbiolo e Bosso. Cavallo numero 14, squalificato. Arriva la squalifica per Biagio, Chuck e Sam. Si prosegue di lena davanti con Bull and Run, davanti a Benton, Babbiolo e Bosso, Blush B. Cavallo numero 8, squalificato. Ssm, 58 e 3, si va, scusate, in testa c'è Baltasar SSM, non Bull and Run, allargo Babbiolo e Bosso che attacca, di dentro Benton. Primo chilometro in 1, 14 e 2, Baltasar di galoppo e così Benton è libero di restare davanti, allargo c'è Brutute Jet, di dentro Bull and Run. Quindi il 9 di Bucefalo Leone, si appresta a entrare in drittura arrivo con Benton attaccato da Brutute Jet, dietro i due c'è Bull and Run, allargo prova all'avanzata anche il numero 9 di Bucefalo Leone. Cala Benton, scatta bene Bull and Run, Brutute Jet si ritrova senza argomenti, Bull and Run, stacca deciso e cento finali. E con Antonino Pecoraro Junior si invola verso il traguardo, per le piazze Brutute Jet respinge Ballerina Egral, Benton e Bucefalo Leone. Due minuti, 1 e 15, il tempo di Bull and Run, i colori del signor Francesco Paolo Gianguzza, il treno di Giuseppe Porzio Junior, la guida di Antonino Pecoraro Junior, la guida di Antonino Pecoraro Junior. E intanto si parte, proprio con Blue Train che lotta con Bora Di Poggio per andare davanti. Blue Train poi alla fine passa, in terza posizione resta Bijou Di Gaia, poi il galoppo di Bojura la V, quindi terzo resta Bayonne davanti a Bata De Cola e Bijou Di Gaia. 200 metri iniziali in 13,5, squalifica per Bojura la V, si imbocca così la prima curva con Blue Train leader e 400 metri iniziali in 28,8. Seconda posizione è Bora Di Poggio, in terza Bayonne, quindi Bata De Cola e infine Bijou Di Gaia si va sulla retta di fronte con Blue Train saldo leader, 43,8 i 600 metri. Prova a mettere la testa in fuori Bayonne che tira parecchio, adesso dichiara non riesce più a reggerlo sotto e quindi è costretto a prendere la via del largo seguito da Bata De Cola. 800 metri in un minuto, fermato in questa frazione Gasparo Verde con Blue Train, adesso viene chiamata a maggior impegno, allargo Bayonne in terza ruota sposta a Bata De Cola. chilometro iniziali in 1,15, 1, Bata De Cola a fianco a Blue Train e tende a passarlo, si libera anche Bora Di Poggio. Per Varchi, Bijou Di Gaia, in calo Bayonne, si entra in dirittura arrivo, Bayonne sotto, scusate, Blue Train sotto la minaccia di Bata De Cola che dà l'impressione di passare quando vuole. E così è all'ingresso di arrivo, mette la figura in avanti a Blue Train ma a largo scatta come una molla a Bora Di Poggio. Quindi Bijou Di Gaia e Bayonne, Bata De Cola e Bora Di Poggio alle prese, testa a testa tra le due femmine con Bata De Cola che si difende lungo la corda, ci prova Bora Di Poggio e sul palo è ancora Bata De Cola. Davanti a Bora Di Poggio, Blue Train, Bijou Di Gaia e Bayonne, 1,59, 3. Favorita a 1,89 in chiusura di contrattazioni, parte piano all'Ed F che poi sbaglia, stacca molto bene Aida Griff che in poche battute prova a scendere la corda e ci riesce, al suo esterno c'è Artac che prova a sistemarsi secondo davanti ad Altair, quindi il 3 di Artemide 3B, il galoppo della favorita Alquitrana, quindi Ellison Di Gaia che prova a trovare posizione, si accota secondo Artac, il lancio è 13,1, Aida Griff, Artac, Altair, quindi in quarta posizione Artemide 3B, a largo Ellison Di Gaia seguita da Artemisia Garra, 27,6 i primi 400 metri, prova a rallentare davanti Alessio Di Chiara con Aida Griff, ci avviciniamo ai 600 metri iniziali che comunque sono sostenuti in 43 e scarsi, si fa sotto a largo Artemisia Garra, la scia viene presa da Altair, siamo a metà della dirittura di fronte con Aida Griff e Artemisia Garra alle prese, di dentro Artac, 800 metri iniziali in 59, 16,1 di frazione, quindi la seconda pariglia è formata da Artac e Altair, ancora il numero 3 di Artemide 3B, imbocchiamo la curva finale, il primo giro da 1, 14,5, Aida Griff, Artemisia Garra alle prese, Artac, Artemide 3B che trova finalmente da correre, di dentro c'è anche Alvise Rab, il calo e il galoppo di Altair, si entra in dirittura d'arrivo con il 5 di Aida Griff che sembra poter controllare, Artemisia Garra, in terza ruota sposta adesso Artemide, Artemide 3B, di dentro senza spazio Artac, quindi Alvise 3B, siamo ai 150 finali con Aida Griff che allunga di scatto, dalla sua scia trova da correre Artac, a centropissa scatta Artemide 3B, Aida Griff e Artac alle prese, i due testa a testa e sul palo è Artac, Francesco Paolo Conticelli, a battezzare Aida Griff, terza Artemide 3B davanti ad Alvise Rab e al 9 di Artemisia Garra. Artemide 6B, Spender Gioiosi, 3CV più appoggiati e si parte. Rita Disgrey è la più veloce scende in poche battute davanti a largo avanza subito Passpartout BLV a chiedere strada quindi in terza posizione Zancos a largo time tough seguito da TopSolz lancio in 3-16 si stalla al comando Passpartout in seconda posizione Rita Disgrey a precedere time tough che scende terzo in corda davanti a Zancos che prova a venire subito via cavallo numero 3 squalificato squalifica per Union OP TopSolz prova a mettersi quarto in corda e si va ai primi 600 metri che vengono passati in 42-4 veloci per la categoria Zancos decide di restare a largo seguito da TopSolz prosegue in avanti Passpartout BLV davanti a Rita Disgrey time tough all'esterno Zancos TopSolz e quindi Splendor Joyoso 59 a metà gara da 1-14-4 attacco deciso di Zancos sulla retta di fronte al Battistrada Passpartout BLV che è costretto a cedere il passo all'allievo di cintura che così passa davanti chilometro in 1-14 scarsi in seconda posizione adesso filtra bene Rita Disgrey che muove a largo meno ci prova di Zancos in terza posizione c'è Splendor Joyoso gli altri che arrancano con Rita Disgrey che capeggia il lotto degli inseguitori si entra in dirittura arrivo in 3 lotta per la vittoria Zancos attaccato da Rita Disgrey quindi Splendor Joyoso Zancos comunque ha speso tanto per essere davanti in fondo Rita Disgrey attaccato da Splendor Joyoso Rita Disgrey alla corda Splendor Joyoso all'argo tessa a tessa 3-2 e in fondo è Splendor Joyoso ad imporsi a Rita Disgrey Zancos Vincent MG e Remy Lorfonte all'argo di tutti Grazie a 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 tutti